Si naviga a vista al comune di Isernia. Questa mattina infatti è stata presentata al Consiglio di Stato l'istanza di revoca dell'ordinanza del Tarre che rimetteva in sella Ugo De Vivo. Il ricorso dell'avvocatura di Stato è inaudita altera parte, ovvero verrà deciso in tempi brevissimi e senza contraddittorio, per cui se venisse accolto dai giudici di Palazzo Spada, a Isernia tornerebbe il commissario prefettizio e questa volta definitivamente. Scontro tra giudici quindi in campo Tarmolisse e Consiglio di Stato. Vedremo che succederà intanto. A Palazzo San Francesco la prima grana per la Petrolini, assessore al bilancio, sarà capire cosa è successo nel conflitto tra Vardè e Melogli sullo sforamento del patto di stabilità. Vorrei innanzitutto avere un po' di tempo da persona responsabile prima di dare una risposta seria e una risposta definitiva. Che sia stato sforato il patto di stabilità non l'ha detto De Vivo, ma lo ha detto la Corte dei Conti e poi lo ha confermato il commissario Vardè. Il sindaco Melogli ha presentato un ricorso al Tar, ma non nel merito se il patto è stato sforato o meno, anche perché il Tar non sarebbe stato competente a dare una risposta. Semplicemente perché non sono state inviate alla Corte dei Conti le contraddeduzioni che il Comune aveva presentato. Il Tar ha sospeso e ha dato la possibilità al Comune di inviare queste contraddeduzioni. Chiaramente la nuova amministrazione leggerà queste contraddeduzioni ed è tenuta all'inoltro alla Corte dei Conti. Per quanto riguarda poi lo sforamento del patto, ho sentito parlare anche di situazioni di dissesto del Comune, io farei questa precisazione. Una cosa è lo sforamento del patto di stabilità, una cosa è la situazione di dissesto del Comune. Dalle prime cose che ho visto non ho potuto rilevare una situazione di dissesto, ma semplicemente da controllare, ripeto, sempre in maniera molto accurata, lo sforamento del patto di stabilità. In ogni caso è una questione che poi sarà sottoposta al Consiglio e sarà sempre il Consiglio Organo Supremo a decidere. Assessore, ma agli serrini interessa il discorso delle tasse perché a seguito dello sforamento del patto di stabilità è aumentata l'IMU e l'IRPEF al massimo. Se Melodia aveva ragione, se la vecchia amministrazione avesse ragione, rivedrete queste tasse? Ma questo è un discorso che sarà fatto insieme con il Sindaco sicuramente e con la Giunta. E anche da quello che ha detto il Sindaco ieri con la massima collaborazione con il Consiglio. Ma è chiaro che i cittadini da questo punto di vista devono stare sereni perché se lo sforamento del patto di stabilità non c'è stato, è chiaro, almeno per quanto mi riguarda, che dovranno essere riviste anche le aliquote.